Chiara Ferragni lascia tutti sconvolti con la sua foto con Fedez. Sembra proprio che la fashion blogger abbia voluto stuzzicare il marito davanti a tutti Chiara Ferragni ha pubblicato sui social una foto romantica insieme al suo marito Fedez Ma al popolo del web non è sfuggito un dettaglio bollente, la mano della bellissima fashion blogger che scivola sulla coscia del marito La foto pubblicata da Chiara Ferragni insieme a Fedez.Chiara Ferragni è una delle influencer più seguita nel mondo, sul suo profilo Instagram conta oltre 15,7 milioni di follower Per lavoro la fashion blogger spesso pubblica foto sul suo profilo Instagram, tuttavia pubblica anche scatti della sua vita privata con il piccolo leone e il marito Nella giornata di ieri, Chiara ha pubblicato anche una foto molto romantica insieme a Fedez Lo scatto immortale alla coppia più amata dai social che si scambiano un bacio sul divano il tutto illuminato da lucine di Natale di colore giallo Ma al popolo del web non è sfuggito un particolare hot, la mano della moglie e neomamma La foto osè dopo quella in intimo di Pizzorosso.Dalla foto sembra proprio che la mano della mamma di leone scivola sulla coscia di Fedez Non mancano ovviamente commenti maliziosi del follower Un fan scrive. Ma gli stai toccando il P? Inevitabile la risposta di un altro follower E se non lo fa lei? Pochi giorni fa, l'influencer è finita nel mirino degli hater per uno scatto postato sul suo profilo Instagram La foto ritrae Chiara Ferragni che indossa un body super trasparente e dei pantaloni in latex di colore rosso Non sono mancate le critiche nei confronti della sensualissima Chira C'è chi sostiene che quello sia un abbigliamento poco consono ad una mamma Molti altri invece hanno sottolineato la disarmante bellezza della fashion blog Grazie a tutti Grazie a tutti